Immacolata di inizio, vengo dal Comitato di Monta. Vengo anch'io da Monta e siamo qui ad Almeno San Salvatore. Il nostro intento è quello di collaborare con tutti quanti per arrivare finalmente a debellare questo male invisibile e comunque dopo saremo ancora più uniti in qualsiasi difficoltà della vita. Auguri a tutti. Croce Rossa, un'Italia che aiuta. Croce Rossa, un'Italia che aiuta. Vediamo, vi ringrazio per quanto tempo rimanete da noi. Noi, il nostro servizio è fino a questa sera alle 20. Poi abbiamo un'altra squadra sempre di Monta che attacca alle 20 fino alle 8 domani mattina. Facciamo H24, siamo aggiuntiva. E aggiuntiva. Sapete poi per quanto tempo, diciamo, come giorni rimanete qua da noi? No, sono di posizioni interne, non lo sappiamo. Comunque siamo sempre disponibili. Perfetto. Dove si chiamano ci siamo. Ok. Volontari che collaborano con i dipendenti. Vi ringrazio. Grazie a te. A Paolo. Grazie a voi. E a Immacolata. A Immacolata. Perfetto. Grazie a tutti.